Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui da Mirko. Oggi una combo davvero stupidissima e ignorante. La Smart Brabus elaborata, 247 cavalli di Smart, a Silverstone National, quindi la versione corta. Andiamo subito a vedere il giro. Allora, un piccolo incipit, una piccola intro su questa macchina perché ha un modo particolare di essere guidata. In particolare, due cose sono importanti. Prima di tutto, la cambiata, che si effettua in modo anticipato. Ovvero, noi terremo d'occhio questi LED che ci sono sul volante. Un secondo dopo che si accenderanno tutti, andremo a fare la nostra cambiata. Seconda cosa importantissima, dovremo sempre tenere una marcia alta e quindi giri bassi. In tutto il giro io userò due marce, sesta e quarta. Basta. Marce più basse non si utilizzeranno. Ma partiamo con il giro. Questo giro qua ero in gara, ho fatto il mio best in gara e quindi analizzeremo questo giro che mi è venuto abbastanza bene. Allora, si parte dopo l'ultima curva, quinta, come vi ho detto, cambiata anticipata. Si arriverà spesso l'imitatore in questa macchina, vedrete. Partiamo. Quinta, sesta, cambiata anticipata. Ok, qui si stacca precisamente prima che finisce l'asfalto scuro. Un bel po' prima, secondo me sono 25-30 metri prima, sì. 25-30 metri prima che finisca questo asfalto scuro. Allora, frenata. Non deve essere devastante, sì. Altra cosa con questa macchina. Non devi assolutamente bloccare perché sennò ti giri. Questa macchina veramente, vi farò vedere magari anche dopo, drifta veramente da paura. E non bisogna assolutamente bloccare. Quindi praticamente non si frena mai al 100%. Io qua, come potete vedere, ho frenato più o meno a metà. La prima curva si affronta di sesta e anche qui, come sempre, dobbiamo cercare, con la frenata, di puntare il muso verso l'interno della curva. Puntiamo il cordolo, puntiamo il cordolo qua all'interno di curva 1, che è molto vicino a questa barriera. C'è da stare attenti, però dobbiamo cercare di prendere questo cordolo, sesta, e poi leggeri col gas, leggeri, leggeri, leggeri in uscita, anche se siamo in sesta. Perché, come ho detto, questa macchina ha una coppia esagerata e in qualsiasi marcia, se tu sei con il volante girato, lei va. A tal proposito, di volante, mi sono anche portato questo, volante, ok, per spiegarvi, vediamo se si vede. Sì, ok, perfetto ragazzi. Quindi, in questa curva ci entraremo, frenata, sterziamo un po', così, sterziamo poco, con la frenata, con la frenata facciamo sterzare l'auto. E dopo dovremo controllare subito sovrasterzo, vedrete dopo, subito sovrasterzo, piano con il gas, quando riusciamo a metterci più o meno dritti, ributtiamo su tutto. Vediamo la curva. Ci tiene sesta, un po' di sovra, attenzione col gas, e via, ce la farci un po' la mano. Poi questa curva, molto insidiosa, si fa una frenata dritta, precisamente appunto, appena inizia il cordolo, dieci metri dopo che inizia il cordolo, scusate, si fa la frenata. Anche qui, non ce la puntare a fare una super frenata, ma piuttosto una frenata lieve, ma portata a lungo, perché si potrebbe provare a staccare anche dopo, ma come vi ho detto, se si blocca, è un caos. Soprattutto qua, perché qui appunto abbiamo questo punto di frenata, dobbiamo fare la frenata dritta e dobbiamo cercare di entrare nella curva a destra senza l'auto in sovrasterzo. Dobbiamo cercare, dobbiamo cercare qua in questo caso, di far noi la curva, non di far entrare in sovra. È difficilissimo, adesso in questo giro è uscito, ma qui dobbiamo cercare appunto, arrivi frenata dritta, la tieni, dritta, e poi sei tu a girare. Non devi entrare di traverso, in modo che tu, così mi si vede, gli dai tu la sterzata e riesci perfettamente poi a trazionare. Qui è molto importante, si perdono due o tre decimi all'uscita di questa curva, se non si riesce a trazionare bene. Ma vediamo qua come l'ho affrontata. Come vi dico, frenata lieve, frenata lieve, frenata lieve, si entra con l'auto dritta, sterziamo noi, trazionare il più possibile e via. Andiamo con la nostra cambiata di marcia anticipata. Ora, ci avviciniamo già nella parte finale, qui si frena in mezzo, tra l'inizio del cordolo e questo cartello della curva, diciamo, che ci indica una curva a 90 gradi. Si frena lì in mezzo, anche qua, frenata, qua si può frenare un po' di più, diciamo che è la frenata più potente del giro, questa. Anche qui, attenzione a non bloccare, se vedete che provate, un po' provate, vedete che bloccate, frenate un po' prima, come vi ho detto, magari tenetela frenata un po' meno intensa, ma tenetela più a lungo. Ok? Qui, fondamentale non perdere troppo il retrotreno, perché se no non riusciamo più a far trazionare l'auto. Qui il top è arrivare, frenata dritta, frenata dritta, l'auto inizierà a scomporsi, la facciamo noi girare dentro, sovrasterzo, sovrasterzo che praticamente ci fa puntare il muso all'interno della curva, sovrasterzo, poi lo trasformiamo noi nella girata, ok? E andiamo a trazionare bene nell'uscita. È difficile, qua si arriva spesso nella condizione che tu freni dritto e fai tu la curva. Ma questa per farla veramente forte, per farla veramente forte, questa curva, devi arrivare a farla sterzare con il freno, sovrasterzata, noi controsterziamo, e poi, al punto di corda della curva, gli diamo la sterzata e usciamo con la trazione, ok? Subito dopo questa ci sarà l'ultima curva che sarà da spigolare, ma la vediamo dopo. Ok, vedete qua, io ci sono entrato un po' in sovrasterzo, più o meno a metà gli diamo la nostra sterzata, e qua adesso siamo all'uscita. Qua dobbiamo spigolarla, quest'ultima curva, dobbiamo puntare al cordolo iniziale, ok? Quindi noi ci arriveremo dritti, perché noi staremo sulla destra. Non dico di arrivare a metà curva, aspettiamo un 5-10 metri, siamo dritti, tanto che l'auto allarga un po', sterziamo tutto, sterziamo tutto, e ritorniamo verso l'interno della curva, verso il cordo all'interno, e da lì cerchiamo di avere la miglior trazione possibile. Ok, qua spigoliamo, allarghiamo, e poi via, qua ci prepariamo, interno del cordolo, a dare il gas il prima possibile. Ok, già finito questo giro di Silverstone Configurazione National, mi è uscito qua un bel giro, e come sempre ragazzi, adesso vi lascio anche il giro completo senza il mio commento, e come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like, e ci vediamo alla prossima analisi. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.